uno degli aspetti anche questi molto molto bello affascinanti nella musica contemporanea sono i tremoli ombra cioè io eseguo un tremolo basso e faccio ascoltare un tremolo ombra che sono diciamo degli armonici che si sentono nella parte alta il tremolo diciamo quello basso è questo però io se modifico poco poco l'insufflazione la posizione delle delle labbra ascoltate questo diciamo questo suono acuto che si sente assieme al tremolo diciamo basso si sente questo tremolo ombra formato da suoni piovuti oppure oppure sono degli effetti diciamo abbastanza abbastanza belli non sono molto difficili da diciamo da esermire però dovete come dicevo prima allenare sui tremoli è importante questo studio sui tremoli su tutti i suoni della scala cromatica è è